Bella ragazzi sono Spiderweb e oggi andiamo al Milano Games Week andremo ad incontrare i termosifoni e il gato lo so è strano a dirsi però si chiamano così gli youtuber cosa ci posso fare? e siccome io da solo non vado da nessuna parte tranne probabilmente per andare al cinema sarò accompagnato da alcuni miei amici youtubers con Taquera o Michael, non lo so dimmi tu come vuoi che ti chiamo Giacomo siamo anche con Jackie Spleyer bello ragazzi andiamo a Milano eccoci arrivati siamo sedi a Milano Raw siamo in coda che non entrare che bello per passare un po' il tempo vi raccontiamo il disavventore su Trenitalia allora il signorino qua Jackie dovete sapere che non ha lasciato il posto alla signorina è il karma il karma l'ha punita perché dopo c'è un indiano c'era seduto un signor forse era meglio la signorina poi c'erano questi ragazzi che erano questi qua stanno parlando di cose questi sono nerd vero? ci hanno triggerato ogni cosa che dicevano cosa preferisci Spiderman o Iron Spiderman? perché tutti gli altri russumi non gliene prego un cazzo a nessuno allora siamo finalmente entrati stiamo percorrendo questo corridoio lunghissimo lungo lungo e credo che poi ci ricollegheremo con la muraglia cinese dal certo punto e niente piove che bello allora qua c'è scritto che vendono i cani caldi però mi avete detto che non li vendono è una truffa via le mani dal naso è una truffa questa qua via le mani dal naso e viva la droga va bene allora vuole farci una recensione? riguardo a quanto ha aspettato e quanto ha speso ovviamente tre ore cinquanta che spero gli valga e un'ora di fila minchia e la birra invece com'è? si la merda sta di attesa pranzo bagnato o pranzo fortunato no? eh si no c'è gente cosa fa nel mio video? non si toghi ma sbapi piuttosto anche lui ma funziona? si salve do il mio numero ci sono le ficche? eh un paio mi seguono si ciao ficche io scrivetelo nei commenti se volete il mio numero che abbiamo trovato cimix lui dovesse conoscerlo dal video di asti ma guarda un po' chi ho trovato il signor victor slaslo si ho comprato la maglietta da pamplins ah quale? quella del turro ah mi sono dimenticato di mettere lo sconto io ve lo metto perché sono scemo eh vabbè dai guardi sempre dove la maglietta eh si dai ma noi ci conosciamo per caso non mi pare mi pare di averla già vista a qualche parte forse mi ha sentito dice può essere può essere dottorenzo può essere però non so io vista forse lo spettacolo di carina può essere può essere posso dire di aver visto tutta la crew in pratica dai ma non ce n'è di crew non siamo nessuno non siete nessuno? vabbè allora me ne vado dai questo qua sarebbe il suo cosplay questo invece è il mio di e si va a rimorchiare c'ho l'orecchia messa a mano ragazzi diteci nei commenti chi è più bello ovviamente l'eroe più figo allora ragazzi stiamo a curva stiamo andando al GameStop no? solo che per andare a questo GameStop è un po' un casino perchè? perchè siamo dovuti entrare da una parte per poi uscire per poi rientrare per allora uscire rientrare dall'altra parte adesso stiamo di non uscendo incredibile serviva tutta questa serpentina Goku ha fatto meno fatica a riacquistare la vita dal pianeta di Recaio che fare tutta questa serpentina ma sono finti i giochi scusate del cartonato come funziona? ma quindi questa qua è la zona termosifoni ecco perchè fa così calco vabbè loro si che stanno comodi eh ciao Marco calma? bene? siamo benissimo eh si? siamo finalmente che l'anno scorso non sei venuto io ti volevo vedere io sono venuto al turismo al turismo eh no non sei venuto adesso ci siete tutti e vi abbraccio incominciamo subito eh facciamoci ecco lui è l'altro termosifone quello bello Morelli eh sì una sbappata per il video grandissimo grazie ci rivediamo dopo un abbraccio ho trovato anche estro è un video un video io sono uno youtuber e faccio video di qualcosa di divertente che si capista possibilmente ahahahah questo youtuber guarda fa eh vabbè quanti ne ho? tantissime ne ho 55 mila no 50 kg io no 55 basta ti speravo voglio dire un po' di sostima eh vabbè pubblicizzatemi dai e vedi su canale tempo su siamo anche con gli ezzar di qualsiasi cosa quello che vuoi ah è un video è un video ma perché tutti non lo capisco c'è click salve salve va bene ho trovato anche un corvo bianco selvatico dov'è? non lo so è qua è qua salve tutto bene tutto bene tutto a posto come le sembra questa fiera? ehm ci sono esatto ci sono tante code si tante cose ma la fiera è quella è la fiera della coda ah bella dai si mostrano i vari tipi di code bellissime all'italiana all'inglese all'americana così almeno le scrivi tutte per bene ah fai di te fai di tanto prossimo anno allora dai ne facciamo di più prossimo anno faranno la fiera della Ressa bello quello dopo della Ressa perché poi quelli della Ressa si incazzano e quindi iniziano a menarsi ciao Roberta un abbraccio ciao 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 sono quello che mi hai fatto che mi ho stretto a comprare l'artbook che mi stiva in Universe eh ragazzi è complicatorio è complicatorio però sì mi è arrivato subito il grande Amazon Prime yes allora c'è un mio amico Pasio che dicevo se lo salutavi si chiama Fabbanz non state bene eh sì salutalo si chiama Fangutupo Fabio come vuoi ma perché non sei qui scusa è bello tuo telefono cavolo perché non sei qua perché un po' Tirtio no vabbè scherzo Tirtio non ce l'ha fatta le Mirko troppo ti saluto allora sarà per la prossima volta un abbraccio ne fattissimo e nel caldo ci vediamo in live ringrazia molto lui che è stato molto gentile per chiudere intoniamo una cartoncina di Steven Universe no che imbarazzo ciao tu fai il labiale e canto io corta però va bene e qua siamo carne e fame chi sta è perla yeah che imbarazzo ciao visto che non sono ancora riuscita a prendere il tuo fidanzato si che quello scappa scappa come un femminino si allora mi rubo la sua ragazza bravissimo no dai scherzo no vogliamo andare va bene andiamo dai allora ragazzi purtroppo non sono riuscito a fare la foto video con il gatto perché sapete lui è un felino e sgattaglio la via sul tubo e quindi ci accontentiamo di questo ciao gatto come va? prima ho preso la tua signora perché non ti trovavo e me la suono un attimino spero non ti dispiace se ti dispiace dimmi qualcosa non mi dici niente quindi mi va bene allora stiamo tornando a casa la fiera è finita descriviamola in due parole code 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 adesso stiamo tornando a casa con questi soggetti qua volevo salutare anche gli amici di Michael un saluto a Francesco l'uomo più stupido che io conosca è Francesca da Firework è tutto ci vediamo ad un prossimo video e viva la droga